La seconda festa di Maria, assolto con lo scopo di propagare la deduzione dei sette colori di Maria Santissima, introduce questa seconda festa di un'ore della Santissima Vergine Immacolata e Adelorata, che celebrato prima dai serviti, fino al secolo XVII, fu resa una festa generale a Papa Pio VII nel 1817, per ricordare le sofferenze della Chiesa, diventava spesso, con l'otto in esigno da Bartolomeo, e per ringraziare la Santissima Vergine della Liberazione. Il numero di dolori di Maria Santissima, disparatissimo, in un primo tempo, fu otto da tutti nel 1100, così era il tuo padre. Il primo dolore, la profezia di Simeone al Tempio, la spada di dolore che per il mio avvito, il cuore immacolato per la Santissima, grande la passione, la fuga all'Egitto, lo sbagliamento di Gesù di Simeone nel Tempio, l'incontro di Maria Santissima con il Signore Gesù sulla via del Carvalho, grande la crucis, la concepizione del Signore Gesù, dall'acquisizione del Signore Gesù, dalla croce, la sfruttura di Gesù. I senti dolori sono l'oggetto della festa, ogni quanto furono causa di sofferenza alla Vergine. Questo è il carattere della festa celebrata nella settimana prima di passione, venerdì, cioè i dolori, diciamo così, intimi, che ha sofferto la Santissima, la donna. L'oggetto della festa di oggi è solo l'unione della Santissima Vergine Maria come corredentrice, unita intimamente nell'olore, anche nella dottoria, nell'espressione, le orazioni del Signore Gesù su un figlio, sulla croce. E dunque la gloria che è di nuovo fu, di Maria Santissima, unita chiaramente a Gesù Cristo, Agnale Immacolato, sull'altare della croce. Maria è la prevedentrice del genere umano, perché fu associata e comprerò, realmente, la nostra redenzione, veramente indipendenza e subito di subordinazione a Gesù Cristo, unico Salvatore, con i suoi dolori certissimi, con i meriti infiniti e con l'offerta della vittima, Immacolata, di figlio diretto, è voluta questa offerta perfetta, questa espressione perfetta del Vio Padre. Maria Santissima non solo offre i suoi dolori, ma offre anche il suo figlio, il suo vigento. è quel figlio immacolato, il Santissimo Natale, lei, Immacolata, Vergine Maria. Lei offre il suo figlio come madre della benedizione, come madre della nuova humanità, e dentro da suo figlio, come novella e bellissima Eva, unita alla nuova d'anno che è Gesù Cristo. Meditiamo spesso i dolori che venghi Santissimo a nostra madre, soffersi moltariamente per amore e per causa nostra. La compassione verso l'atturata si dimostra con la rassegnazione delle prove, la santa rassegnazione ovviamente sostenuta dalla grazia di Dio, la santa rassegnazione e con l'odio al peccato, cioè chiede l'odio, il disgusto cuorio all'unforo di disobbedienza, all'unitaggio di Dio il peccato. Le sette spalle che capissero il cuore immacolato e adorato finalmente il Santissimo sono il simbolo dei sette indizi capitali che feriscono l'unità e la sanità dell'uomo. Noi chiediamo questa festa a questa Santissima Madre che è stata prefigurata, anticipata alla figura della grande giuditta dell'ultimo testamento. Abbiamo sentito la testa di questa donna coraggiosa, per cui il Signore liberò Israele. Questa prefigurazione di Maria Santissima, la donna forte, la donna vestita di sole, che schiaccia con il caricaro il serpente antico, che ha una nuova sotto il piede, la donna del vicisferio, la donna della Pancamisse, la mia Santissima, che ci viene donata, la donna della redenzione, la prevenzione, la signora Gesù, proprio nel massimo, il momento più alto e più forte del primax, del curvine della sua prevenzione. vedendo la madre accanto a lei, il discepolo, che è di amare Gesù Cristo, sua madre, la donna e te contro figlio, che poi disse il discepolo, te contro madre. La lei Santissima, adesso San Giovanni, riceve tutti i discepoli di Gesù come i suoi figli, lei madre, che la divina grazia, la donna della donna, la donna Santissima, la misericordia, che la dura tutta la chiesa, nel senacolo, nell'attesa dello scritto santo, che si tracerebbe nella chiesa, di ogni figlio e figlio di Dio, lo tratezzato, e poi noi, come San Giovanni, dobbiamo prendere con noi, nella nostra casa, il nostro cuore, la Santissima, la donna di Gesù, la donna di grazia, la misericordia, come nostra distesa, la nostra custodia, come il Padre, come il Figlio, come il Figlio, è che lo stuporio da nonci, E che lo stanno,